E' il giorno della verità per il caso Marco Vannini, il giovane di Cerveteri, che nel maggio del 2015 è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco nell'abitazione della sua fidanzata alla Dispoli. La Corte di Cassazione tra poche ore deciderà se sarà confermata la pena ad Antonio Ciontoli, condannato in appello a 5 anni, pena ridotta dopo il primo giudizio, oppure se il processo sarà rifatto da capo. Telecamere e giornalisti da questa mattina hanno invaso l'ingresso del palazzaccio. La mamma di Marco, Marina Conte, si è intrattenuta solo pochi secondi con i cronisti, ringraziando chi le sta vicino in questi momenti difficili. Fuori il tribunale una delegazione di persone a sostegno della famiglia Vannini, partiti da Cerveteri e la Dispoli, rimarranno fino a sera quando sarà emessa la sentenza. Sono tre le possibilità, la prima che il processo possa riaprirsi, la seconda che vengano accolte le richieste dei legali di Ciontoli di togliere le aggravanti, la terza è la conferma della pena al militare campano che comporterebbe da questa sera il trasferimento in carcere.